Facciamogli creare una canzone di prova, sentiamo se sono delle cagate o meno. È ufficiale, siamo nella merda. Se ci dice bene, finiamo nella merda. Ragazzi, preparatevi ad una dose d'ansia che non provate da molto tempo. Avete presente quelle intelligenze artificiali visuali, no? Che ne so, tu gli scrivi fammi vedere un velociraptor pazzo che ascolta l'album K-pop di Massimo Boldi e lui in 448 te la crea. Sembra più Carlo Conti bianco. Ecco, ma se vi dicessi che con lo stesso identico principio noi possiamo chiedere a un'intelligenza artificiale di crearci una canzone da zero, questo è quello che facciamo oggi. Per tutti i feticisti di Black Mirror e per far venire un po' di ansia ai musicisti. E cominciamo subito con la creazione della base. Quindi praticamente un'intelligenza artificiale ci creerà la musica completamente da zero senza dargli alcuna istruzione tecnico-musicale. Ci sono già diverse intelligenze artificiali che si occupano della creazione di una base e io oggi utilizzerò Aiva. Questa qui. Non sono stato pagato, non è sponsorizzato questo video da parte di nessuna delle intelligenze artificiali che vedremo nel corso del video. Quindi perché ho scelto proprio questa? Perché è l'unica gratuita. Allora, come funziona? Clicchi su Create Composition e ti ritrovi una serie di generi musicali che fanno al caso tuo. EDM, Old School Rap, Trap, Piano, Songwriter, Jazz, Heavy Rock addirittura. Cominciamo con Sea Shantae, quindi una roba abbastanza piratesca. A questo punto ti scegli il mood, glielo facciamo scegliere in automatico che sarebbe festoso, triste, divertente, presumo. La durata della canzone, dal 30 secondi a un minuto, facciamo così che non dura troppo e numero delle composizioni, cioè tu praticamente gli puoi chiedere quante canzoni mi fai con un'unica query. Create your track. In meno di 15 secondi hai due basi pronte. Sentiamo se sono delle cagate o meno. Tutto completamente in automatico, non ho suonato niente, non gli ho detto la tonalità, non gli ho detto la velocità e mi sembra che il risultato sia molto più orecchiabile del previsto. Proviamo con Old School Rap. Non vinceremo un Grammy con questa base musicale, ma se agli albori della tecnologia i risultati sono questi. Ok, proviamo un altro genere musicale per vedere come si comporta, questa volta andiamo su EDM. 20 secondi questa volta, sentiamo. Penso spesso alla fine di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto, minchia è uguale. Sentiamo la seconda. Ma che ho? Cosa ne pensi? Siamo nella merda. Bene. Possiamo utilizzare quest'ultima base. Passiamo adesso alla creazione del testo e utilizzeremo adesso quest'altro sito. Ci sono diversi generi musicali, rap, metal, country, summer song, o addirittura possiamo scegliere gli artisti, possiamo scrivere una canzone come i Beatles, di Ram, Frank Sinatra. Allora diciamo che la base, l'ultima base che abbiamo creato... E abbiamo. Forse il genere musicale più simile è summer song, una sorta di testiva. Dalle sonorità anni 80 un po' cyberpunk diciamo. Come funziona? Funziona che tu hai a disposizione tutti questi form dove vai a inserire le parole che vorresti nel testo e a tutto il resto ci penserà lui. In che anno siamo nella tua canzone? Come dicevo mi ha dato delle vibes un po' cyberpunk, quindi 2077. Due posti. Beh, io ambienterei la nostra canzone a Pizzo Calabro e Busto Arsizio. Poi abbiamo due nomi da utilizzare. Io andrei con Padre Maurizio e Rihanna. Come vedete è a prova di mongolo, ma se siamo ulteriormente stronzi e non ci va nemmeno di sbatterci a selezionare i verbi da utilizzare, glieli facciamo suggerire completamente in automatico. Suggeste, 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 suggeste. E in meno di due secondi ti ritrovi il tuo testo completo. E chi canterà questo testo? Sì! Avete capito bene! Esiste un'intelligenza artificiale che ti permette di emulare una madonna di rapper, artisti e cantanti. Si chiama Uber Talk. Funziona presto a poco così. Selezioni se vuoi un rap o se vuoi un cantante. Hai una schiera di cantanti o di rapper da poter selezionare. Incolli il tuo testo. Ne incolliamo una parte a caso del nostro testo che abbiamo appena creato. sintetizza e ti crea la tua traccia. Peccato che adesso però questa intelligenza artificiale, per qualche oscura ragione, non funziona un cazzo. Ci toccherà adattarci e addirittura cantare una canzone. Prendiamo la nostra canzone e non dobbiamo fare altro che cantare quello che l'intelligenza artificiale ha creato al posto nostro. We're all going to summer holiday, no more drinking for a wake-up too, no more scrummy thoughts for me or you for a wake-up too. Read my thoughts from Booster Sizzio, had a band with dry so hard, padre Maurizio with Rihanna's kids, I knew we'd never end up smoking. All the summer of 2077, I wish they all could be drums of pizza calabro, yeah. Non esiste singolo senza una copertina, quindi andiamo a chiedere a questa intelligenza artificiale di creare un qualche cosa. Facciamo un test intanto per vedere come funziona. Che ne so, Walter White che suona la chitarra in una band heavy metal. E in pochissimi secondi... Ok, è abbastanza specifico. Proviamo però adesso qualcosa di più astratto. Illusione psichedelica di una giovane donna che mangia un burger di seta. Oh cazzo, questa potrebbe essere una copertina indie! Ok, mi dà idea che possiamo divertirci parecchio con questa intelligenza artificiale. Se volete un video apposta solo su queste copertine, arriviamo a 15.000 like su questo video. Per adesso ritorniamo in carreggiate e ritorniamo sul nostro singolo. Abbiamo dentro un po' di cyberpunk e padre Maurizio che suona in una band. Sembra più Alberto Castagna pelato, però l'atmosfera cyberpunk l'ha presa. Questa è la nostra copertina ufficiale. E a questo punto il videoclip non lo vogliamo creare. Facciamone fare uno completamente in automatico da Rotor Videos. E via! Ci teniamo il Watermark Rotor perché col cazzo che vi pago per questa demo. E a questo punto vediamo il risultato finale. We're all going to summer holiday, no more drinking for a wake or two. No more scrummi thoughts for me or you for a wake or two. Read my thoughts from Booster Sizzio, ad a band we try so hard. Padre Maurizio quit, Rihanna escaped, I knew we never end up smoking. Oh, the summer of 2077, I wish they all could be drums of Pizzacala, bro. Oh, the summer of 2077, I wish they all could be drums of Pizzacala, bro. E questo è tutto. È stato molto inquietante. Arriviamo almeno a 15.000 like per l'episodio delle copertine create dalle intelligenze artificiali. E noi ci vediamo comunque la settimana prossima con un nuovo video. Grande, eh?